Fabio Marin, neo sindaco di San Zenone degli Ezzelini, però è stata dura. 47 i voti di scarto? Esatto, 47 i voti di scarto è stata una bella gara, diciamo. È stata una campagna elettorale bella, con la nostra squadra abbiamo portato proposte concrete, ci siamo confrontati con i cittadini e alla fine comunque abbiamo ottenuto un bel risultato, abbiamo vinto ed ora siamo già pronti, siamo già partiti per amministrare il nostro paese. Prima cosa da fare adesso a San Zenone? Allora, lo dico sempre, l'ho detto fin dall'inizio nella campagna elettorale, la prima cosa da fare è mettersi a disposizione del cittadino, cioè ascoltare i cittadini e parlare con tutti loro. Non voglio sia questa una cosa scontata, una cosa detta per dire, voglio che sia davvero in maniera concreta. Chi si sente di ringraziare in maniera particolare? Ringrazio in maniera particolare, a parte tutti i cittadini che ci hanno votato e la squadra, però sicuramente la mia famiglia, ringrazio mio papà, i miei fratelli, che mi hanno veramente sostenuto in questo percorso e ringrazio anche una persona che è lassù, che è mia mamma, che è sempre stata con me.